Divertente e non poco questo scherzo che c'è stato un po' di giorni fa e che vede come vittima Eva Grimaldi con la complicità di Imma battaglia la moglie. E questo scherzo organizzato da Ligiene da Alessandro Onnis e Stefano Corti è davvero simpaticissimo. Adesso ve lo racconterò molto brevemente. In buona sostanza Ligiene e Imma fanno credere a Eva Grimaldi che la stessa Imma si sia innamorata di una sora in quanto partecipano a un pranzo al ristorante che frequentano di più a Roma e in quel pranzo Imma manifesta a Eva Grimaldi, la moglie, è il fatto che frequenta, diciamo così, un gruppo di suoi e una sora che le ha distribuito dei volantini con su scritto che l'amore è l'antivirus che fa bene alla coppia, che bisogna amarsi sempre e comunque, che l'amore contagia un po' tutti. Se non che una serata dopo accade che questa suora, una suora, entra a casa di Eva e di Imma e avviene, diciamo così, una sorta di rito, un rito magico, tra virgolette, in cui la suora appunto coinvolge Imma e Eva Grimaldi e Eva è abbastanza contenta e soddisfatta anche perché nel salotto di casa stanno tutte e tre in piedi, si mettono, diciamo così, a fare questo rito divertente, piacevole e la soddisfazione viene negli occhi di Eva, oltre che di Imma, la quale, ripeto, è complice di questo scherzo. La sera dopo però accade una cosa abbastanza inspiegabile, infatti Eva, nel ritornare a casa, trova il letto tutto quanto sfatto, nella camera da letto e si chiede che cosa sia successo. Non c'è, diciamo così, Imma a battaglia, se non che la va a chiamare al telefono. In buona sostanza Eva Grimaldi sospetta che proprio ci sia stato un tradimento da parte di Imma a battaglia nei suoi riguardi, nei confronti di Eva Grimaldi. Alla fine però si scopre proprio che ci sarebbe stato un tradimento, infatti Eva è depressa e a pezzi, tanto che esce fuori dal cortile di casa, si mette a piangere a dirotto, quando però all'improvviso spuntano fuori i due complici di questo più appreggiato scherzo, no? Che sono Alessandro Onnis e il simpatico Stefano Curti, i quali vanno a consolare Eva Grimaldi che scioccata più che mai, piangente, triste e annichilita sta davvero molto male, però gli dicono guarda, le dicono guarda, è uno scherzo da parte nostra con la complicità di Imma a battaglia, Imma è cia fuori e consola l'amata donna, l'amata Eva. Bene, un divertente, simpatico, piacevole scherzo questo che ovviamente non è passato inosservato e che ha davvero colpito in pieno tutti, chiunque ne sono escluso. Felicità, allegria, brio, tutte sensazioni di puro benessere trasmesse in questo pregiato scherzo. Grazie, grazie a tutti, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate. Un saluto caro da Leandro, il narratore italiano. Grazie a tutti.